Oh! Oh! Ferma! No! Gli dico ferma! Ferma! Ho detto ferma! Torna indietro! Gli dico torna indietro! Torna indietro! L'ho detto torna indietro! Avvocato le istruzioni le do io! Si rimetta subito a sedere! Che cos'è sta sodomia? Ah, l'ha preso nel culo! Eh! Scriva, Cancelliere! Sì, sì! Fellazio in ore! Ore! Quindici e quarenta cinque! Sì, sì! Questo lo so! È Fellazio che non capisco! Ah! Pino! Parfetto!